Non è andato proprio giù ai suoi colleghi del Movimento Sovranista il voto favorevole di Carlo Perrella al bilancio di previsione del Comune di Boiano. Un voto, si ricorderà, che ha evitato la caduta del sindaco di Biase. A ridosso di quel fatto politico che aveva portato all'azzeramento dell'esecutivo e a nuove nomine, arriva la presa di posizione del Movimento Sovranista. Indetta stamania di Sernia, dai vertici regionali e locali di quel sodalizio, una conferenza stampa. Tra i diversi argomenti ed obiettivi, quello di tranquillizzare gli elettori prendendo le distanze da Perrella. Per tranquillizzare i nostri elettori, la gente libera della Regione Molise, gli elettori del Movimento Nazionale per la Sovranità, gli elettori di destra. Noi siamo alternativi alla sinistra e al centro-sinistra da sempre. Lo dice il nostro partito, lo diciamo noi, lo dice la nostra storia. Non pensavo che dovevamo intervenire in modo così netto, ma è evidente che è opportuno fare chiarezza. Siamo alternativi al centro-sinistra, non condividiamo assolutamente questa scelta, andiamo avanti per proteggere gli interessi del Molise. Alla domanda circa l'eventuale espulsione di Perrella dal partito, Mancini glissa. Queste sono dinamiche interne del partito, io sono un esponente nazionale, un dirigente nazionale del partito, faccio parte della serena nazionale. Non si chiede l'espulsione di nessuno, stiamo valutando quello che bisogna fare per il bene del partito.